Uno a uno e palla al centro. Ufficialmente Gabriele Albertini non è il candidato del centrodestra e forse non lo sarà mai, ma il fascino di una potenziale sfida tra due ex sindaci non lascia indifferenti le parti politiche che hanno quindi cominciato a sfidarsi a colpi di sondaggi. A poche ore dalle prime indiscrezioni che volevano Albertini come sfidante di Beppe Sala, era infatti emerso un sondaggio targato eometra e commissionato da ambienti vicini al centrodestra. Il risultato? In un ipotetico ballottaggio, Albertini si sarebbe affermato su Sala, con uno scarto di un punto percentuale. L'ultimo sondaggio in ordine di tempo però ribalta il risultato e lo fa in modo spettacolare. Si tratta di un'indagine commissionata dal parlamentare di Italia Viva Gianfranco Librandi che a Milano promuove una lista a sostegno di Beppe Sala. Secondo Ipsos, l'istituto guidato da Nando Pagnoncelli, Sala batterebbe Albertini con un margine ampio, compreso tra gli 8 e i 16 punti percentuali. L'attuale primo cittadino si piazzerebbe infatti tra il 54 e il 58%, lasciando l'ex sindaco tra il 42 e il 46%. Un divario che sempre secondo Ipsos addirittura salirebbe a quasi 20 punti percentuali se lo sfidante del centrodestra dovesse essere il parlamentare di noi con l'Italia ed ex ministro Maurizio Lupi. Il sondaggio registra inoltre un giudizio sostanzialmente positivo dei milanesi sull'amministrazione Sala. Il 42% assegna una sufficienza mentre il 25% arriva fino all'ottimo e anche sull'emergenza i cittadini si esprimono a favore dell'attuale inquilino di Palazzo Marino. La qualità della vita a Milano, nonostante l'emergenza covid, è da 7. Nonostante quest'ultimo sondaggio e in attesa dei prossimi che certamente non mancheranno di arrivare, il centrodestra continua il corteggiamento nei confronti di Albertini. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha affermato di rimpiangere i tempi dell'ex sindaco e di sperare che accetti la candidatura a Milano. La decisione, ha concluso Salvini, è prevista per maggio. Grazie. Grazie.